Iesi, storia e cultura. La città di Iesi si trova a una trentina di chilometri dal capoluogo regionale Ancona e a circa 20 chilometri dal mare Adriatico. Città d'arte e di storia, Iesi offre ai servizi l'animazione e la qualità di vita di una città a misura d'uomo, in mezzo alle colline, a metà strada tra il mare e la montagna. Qui nacquero l'imperatore Federico II di Austaufen e il musicista Gian Battista Pergolesi. L'UNESCO nel 1969 l'ha indicata come città esemplare, per la persistenza nel tessuto urbano contemporaneo del castrum romano. Scoprire Iesi significa pertanto immergersi in una realtà ricca di storia ed arte, che si evidenzia non solo visitando uno dei tre musei, il teatro settecentesco o il fondo storico della biblioteca comunale, ma anche passeggiando nell'antica parte medievale, per ammirare la cinta muraria e i palazzi nobiliari, o semplicemente percorrendo l'intreccio dei vicoli, delle scalinate e delle piazzette. Iesi non si è però addormentata sulle testimonianze di un passato glorioso. La vita culturale attesta tutt'oggi una grande vitalità. Durante l'anno si susseguono stagione lirica, stagione sinfonica e stagione teatrale. Maggio è il mese del Palio di San Floriano, una duocentesca rievocazione storica con cortei di figuranti, sbandieratori, tamburini e arcieri. E durante le serate estive la rassegna di Iesi estate, anima piazze e giardini con concerti, conferenze e spettacoli vari. Secondo la tradizione, i pelasgi, giunti dalla Tessaglia, avrebbero fondato la città di Iesi nel X secolo a.C., dandole il nome del loro mitico re Esio. Ma la città venne probabilmente fondata dagli Umbri, poi conquistata dagli Etruschi e successivamente dai Galli Senoni nel IV secolo a.C., che fecero di Iesi l'ultima roccaforte di difesa contro i Piceni. Con la battaglia del Sentino del 295 a.C., Roma sconfisse definitivamente i popoli italici e Iesi venne trasformata in una colonia romana. Nacque così il municipium di Eisis, costruito secondo il tipico modello del Castrum, la cui struttura urbanistica è ancora leggibile nel reticolo di strade attorno a piazza Federico II, corrispondente all'antico foro. Durante il dominio romano sorsero solide mura di cinta, templi ed edifici pubblici e un teatro capace di accogliere 2.500 spettatori. Il territorio della Vallesina venne bonificato e sorsero numerosi pagi e ville. Dal IV secolo a.C. con la predicazione di San Settimio, patrono della città, si diffuse il cristianesimo.